Ciao ragazzi, ormai qualche tempo fa ho avuto un sinistro, ho fatto un piccolo incidente. Durante questo piccolo incidente la mia presa USB, quella con cui molti di noi in moto caricano telefoni, navigatori, si è danneggiata. Ha iniziato però a funzionare a fasi alterne, cioè caricava e non caricava. A volte il telefono presentava il segnale di carica e altre volte invece no. Alla fine dovendola sostituire ho deciso di smontarla, di aprirla, perché magari ad alcuni di voi può far comodo vedere com'è dentro, essendo da una parte un po' fragile, neanche troppo a dire la verità, e dall'altra parte non troppo difficile da riparare in alcuni punti, perché c'è come vedrete una circuiteria che se uno non sa dove mettere le mani invece diventa complicata. Dato il prezzo isiguo, secondo me conviene quasi cambiarla. Però ecco, magari qualcuno di voi gli si stacca solo uno dei fili e con una goccia di stagno si riesce a ripristinare tutto senza doverla ricomprare. Ecco, questo ha la vostra sensibilità. Però io foto aperte, insomma, non ne ho viste tantissime, quindi ho deciso di fare un piccolo video, magari a qualcuno torna utile. Allora, questa è quella a due porte USB. Quello che è successo durante l'urto è che una di queste due porte, cerco di indicarvela adesso, ecco qui. Questa qui in particolare si è danneggiata, si è danneggiata la piattina bianca che praticamente adesso non riesco a farvela vedere bene, si è allentata. Quindi i contatti ci sono e non ci sono. Ma com'è fatta dentro questa presa? Io l'ho aperta e in realtà è, diciamo, scarsamente riparabile, perché questo è un anello di tenuta a guarnizione. Dopodiché ci sono, innanzitutto, ci sono i due fili, rosso e nero, quindi positivo-negativo, con ovviamente una circuiteria di base. Questo è l'anello che si illumina e diventa blu e poi c'è ovviamente l'innesto della parte USB. Ora, tendenzialmente ripararla non è fattibile facilmente se non abbiamo conoscenze di saldatura e compagnia, perché quando si rompe questo, cioè quando si rompe la parte USB, diventa molto difficile ripararla. Comunque, come vedete, è tutta a incastro, cioè ci sono questi piedini che tendono a incastrarsi. Io ho forzato un pochettino qui col cacciavite, perché tanto la presa era danneggiata. Vi faccio vedere meglio il danno. Ok, eccoci, ho cambiato la telecamera così che possiate vedere. Dunque, essenzialmente il problema, come vi dicevo, è su questa piattina bianca. Adesso io vi farò vedere. Praticamente, non so se si percepisce, vedete, si muove con estrema facilità, perché il danno ha comportato che il filo si sia tirato e quindi, ecco, ha piegato praticamente questa piattina. Ovviamente questa piattina si muove anche in senso contrario, mentre questa è, vedete, è veramente ferma. Quindi, facendo questo gioco qui, ormai i contatti che stanno sostanzialmente qua dentro, ecco, credo che riusciate sostanzialmente a vederli, si muovono e perdono presa sulla porta USB. Insomma, se mai vi dovesse creare qualche problema la presa, potrete sempre provare a ripararla. Io non ce l'ho fatta, anche perché questo pezzo non è facilmente apribile e quindi alla fine l'ho ricomprata. Un saluto a tutti!